combinata a dieci balli e terzi anche ai campionati europei della stessa specialità. Sono fra le prime dieci coppie al mondo per quanto riguarda le danze standard. Questa sera ci presentano un waltzer lento, facciamo loro un grande applauso Sara e Valerio! Conosci tutto questo, quando dimentichi tutto quello che hai imparato, dimentichi il processo della tecnica, dimentichi le tue ansie, il motore del tuo corpo sarà visibile. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!